Salve, ci troviamo nelle prossimità di Borgo Piave e ci stiamo regando all'appuntamento della corsa che si darà il 19 febbraio prossimo venturo a Tre Cancelli. Per tutti coloro che provenissero dall'Appia, al punto che ci troviamo adesso, cioè Borgo Piave, devono svoltare a destra e prendere la direzione Roma percorrendo la Pontina. Abbiamo percorso circa 5 km da Latina, Borgo Piave, direzione Roma e ci stiamo portando sullo svincolo di Borgo Montello per regarci a Tre Cancelli dove c'è il ritrovo della corsa. A questo punto svoltiamo sulla destra, uscita Cisterna-Nettuno-Borgo Montello. Arriviamo all'incrocio e giriamo a sinistra, passiamo sotto il ponte. Siamo arrivati in località Le Ferriere, adesso ci approssimiamo all'incrocio e ci portiamo sulla sinistra. Dopo aver percorso circa 5 km e 300 metri dal località Borgo Le Ferriere ci troviamo al semaforo di Tre Cancelli, superato il semaforo siamo già sul circuito di gara, siamo giunti al punto di ritrovo Bar Sacucci ma in effetti si chiama Hollywood Bar, questo è il punto di ritrovo della corsa del 19 febbraio prossimo avventuro. Abbiamo azzerato il contachilometri e inizia il nostro percorso di gara, considerate che subito dopo il punto di ritrovo sarà posto l'arco d'arrivo praticamente in questo punto. Abbiamo percorso 2 km e a questo punto ci troviamo davanti una rotonda. circuito di gara svoltiamo a destra per via dei frati e ci portiamo verso il bivio di Forta Pasce. abbiamo percorso quasi 5 km di gara. 7 km di gara precisi in questo momento ci troviamo al bivio di piscina Cardillo ci allarghiamo attenzione qui allo spartitraffico, svoltiamo a destra, altro spartitraffico, leggera salita e entriamo sulla strada che ci porterà al bivio di Tre Cancelli. Abbiamo percorso 9 km e 400 metri del circuito di gara, siamo vicino al campo sportivo. A questo punto all'ultimo giro già ci saranno le varie tattiche per prendere le migliori posizioni per la volata finale, siamo quasi giunti al bivio di Tre Cancelli dove svolteremo a destra, a questo punto ci allarghiamo, abbiamo svoltato a destra e ci portiamo in leggera discesa verso il rettilineo d'arrivo. Rettilineo d'arrivo visto dalla parte di chi guarda, circuito di 10 km e 400 metri, le partanze saranno due, una per la categoria adulti e una per la categoria senior gentleman con tre ordini d'arrivo, la gara è aperta a tutti gli enti della consulta più Federazione Ciclistica Italiana. L'appuntamento è per il 19 febbraio prossimo venturo, ritrovo Bar Hollywood Tre Cancelli, 7.30 l'appuntamento, partenza 9.15 circa. Saluti a tutti. Saluti a tutti.